Parliamo di questo pareggio per quello che abbiamo visto dalla tribuna, è un punto d'oro. Sì, un punto sofferto in una giornata non molto positiva nostra, nel senso che abbiamo sbagliato tecnicamente tanto. Noi eravamo molto decisi nei contrasti nel primo tempo, non siamo stati bravissimi a attaccare la profondità in attacco, perciò abbiamo sofferto loro, abbiamo sofferto la loro fisicità, specialmente nel quarto d'ora finale del primo tempo e nell'inizio del secondo tempo. Poi abbiamo spostato un po' mettendo una punta di più, un po' un peso offensivo e alla fine ci siamo contro il 5-2 e abbiamo cercato di portare a casa un risultato utile, è importante, contro una squadra secondo me che in questo momento sta molto bene. Ha detto Alessandro Bruno qualche istante fa ai nostri microfoni, Livorno ci ha messo qualcosa in più del Pescara, aveva più voglia di portare a casa il risultato, è d'accordo con questa analisi? Sì, sono d'accordo, erano più spirito, più determinati, più aggressivi di noi, dobbiamo imparare da questo, che noi dobbiamo tornare ad essere aggressivi, più tosti e sbagliare meno tecnicamente. A Verona nella gara di domenica scorsa con la Cremonese ed oggi non si è visto un Pescara brillantissimo, soprattutto un Pescara che ha dimostrato di avere dei problemi in zona gol, eccezione fatta per la gara di Salerno, secondo lei perché? A Verona in che senso? Dico eccezione fatta per la gara di Verona, con la Cremonese ed oggi Pescara ha avuto problemi in attacco, non ha segnato. Sì, è vero, abbiamo avuto delle difficoltà oggettive, non abbiamo concluso molto, è un periodo un po' così, ho detto, bisogna lavorarci su, capire dove possiamo migliorare e capire cosa bisogna fare per cercare di avere più peso offensivo. Di positivo c'è invece la tenuta della difesa che anche oggi è riuscita a non prendere gol? Da quel punto di vista stiamo lavorando bene, la difesa si sta comportando molto bene, sta lavorando bene, dobbiamo cercare di migliorare in avanti adesso, perché prima andavamo benissimo davanti, un po' meno dietro, adesso andiamo bene dietro, bisogna trovare il giusto equilibrio. Domenica arriverà il Brescia, ci vorrà altra prova rispetto a quella di oggi? Ci vorrà altre prove sempre, cercare di migliorare sempre, non solo oggi, ma cercare di migliorare nel tempo perché in questo momento non siamo brillantissimi. Giovedì si chiuderà mister il mercato, cosa si aspetta dalla società in questi ultimi quattro giorni? Meno male che finisce, così queste domande non me le fate più, vediamo quello che può fare la società. Un attaccante però dovrà arrivare, se partirà Monachello. Ma chi ha detto che parte Monachello? Ho detto Cocco è sul mercato, non essendoci Cocco, dovrà arrivare un'altra punta, adesso vediamo chi, come e cosa.